Ciao Ciccine! Al solito posizione estreusa per i video outfit, comunque, al solito, allora è domenica, io sto uscendo, sto andando in centro, la giornata prima era pessima, adesso sta uscendo il sole, quindi insomma andrò in giro, a passeggio con la mia peste, l'avete visto, con il mio cucciolino. E procedo subito a farvi vedere l'outfit, al solito cerco di farvelo vedere intero per quanto mi sia possibile e poi ve lo spiego nel dettaglio. Allora, comincio subito così mi tolgo il cappotto poi vi faccio vedere il resto. Allora, questo è il trucco di oggi, capirete perché è colorato, perché riprende il colore della maglia sotto, quindi questo è il trucco di oggi. I capelli sono un po' oggi, sono un po' così, ma vabbè, pazienza. Ah, vi faccio vedere magari l'insieme. L'insieme è questo, scusate il casino che c'è alle mie spalle, ma sono tutte le mie borse che ormai non so più come gestirle. Allora, cappottino in piedi pull, la scritta ve la dedico, cappottino in piedi pull, bianco e nero, corto al ginocchio. Sotto, non è molto pesante, il cappottino è stato acquistato dai cinesi un po' di tempo fa, al solito, ai miei soliti cinesi. Questo è aperto. Ok, poi poso tutto qui l'ambaradam per farvi vedere il resto. Sotto il cappottino ho questa maxi maglia, è tipo un cardigan, perché è aperta, cioè hai bottoni qui davanti, ha questo cinturino, ha le maniche così, mi piacciono molto. Color carta da zucchero. Sotto un maglioncino con l'altro, perché ve l'ho detto, prima era proprio brutto brutto, ora effettivamente sta uscendo un po' di sole. Comunque, maglioncino quindi con i bottoncini, da utilizzare in mille modi. Sotto una gonna a tubo aderente, con questi dettagli di pelle, ma tanto non si vedono, quindi insomma mi serviva una gonna semplice, non era a tubo. A metà coscia, come vedete. Quindi, che viene coperta, quindi vedo non vedo, con questi collant, che sono dei cuoricini, acquistati anche questi dei cinesi. 3 euro, carini. E queste scarpe, che avete già visto, credo, altre volte. Sono fatte così. Sono di prima donna, ma di, non lo so, tipo 5 anni fa, insomma, non è una nuova collezione, ma mi trovo benissimo, sono comode, con tutto che sono alta, eccetera. E il trucco ve l'ho fatto vedere, quindi, dicevo, il trucco, come vedete, richiama poi i colori della maglia, il coloro del cartello da zucchero. La borsa l'ho dimenticata, ce l'ho in un'altra stanza, quindi non fa niente. Vabbè, una borsa nera, in modo da non fare 10.000 colori. E questo è il mio outfit, spero vi piaccia, e ci vediamo al prossimo video, insomma. Ciao!